L'Assemblea regionale siciliana ha approvato il disegno di legge con il quale, dopo oltre vent'anni, sono stati stabilizzati tutti i precari siciliani, grazie al celere lavoro svolto dai componenti della prima, seconda e quinta commissione, che con grande competenza, capacità e velocità hanno espresso il loro voto favorevole che ha consentito di portare in aula il disegno di legge e farlo approvare con la stessa velocità. La stabilizzazione dei precari e legge è il nostro augurio di fine anno per tutta la fascia del precariato, dice in una nota il Presidente della Regione, Rosario Crocetta. Tutti i precari vengono prorogati e soprattutto nei confronti di queste ultime categorie viene riconosciuto il diritto alle ferie, alla malattia, alla maternità, che fino ad oggi non era stato riconosciuto. È una grande pagina di dignità che abbiamo voluto dare a tutti i lavoratori precari della Sicilia. Adesso, conclude il Governatore, pensiamo ai disoccupati. La norma sui precari è un atto di responsabilità nei confronti di migliaia di lavoratori e di centinaia di amministrazioni comunali. Il Partito Democratico all'Ars, il Governo e il Parlamento hanno dimostrato attenzione ed impegno. Aggiungono il Presidente del Gruppo Parlamentare del Partito Democratico all'Ars, Alice Anselmo, e il suo Vice Presidente Giovanni Panepinto, a proposito dell'approvazione in aula all'Ars dell'articolato disegno di legge sulla proroga e stabilizzazione dei precari. Quest'anno, proseguono, abbiamo messo il tassello che mancava al percorso di stabilizzazione di un bacino composto da diverse categorie, ormai indispensabile al funzionamento di enti e comuni, che comprende anche i lavoratori dell'ex provincia. Oggi è stata vinta una prima battaglia di civiltà, commenta Vincenzo Fontana, in merito alla proroga dei contratti dei precari degli enti locali. Adesso per i comuni si avvia l'iter verso la stabilizzazione di queste figure che da oltre vent'anni lavorano in condizioni di assoluta instabilità e incertezza. Questo arco temporale di 24 mesi, aggiunge il deputato Grigentino, è fondamentale per ridare serenità al personale, stabilità ai comuni e soprattutto per avviare il processo di stabilizzazione che rimane l'obiettivo principale. Critico invece il Movimento 5 Stelle, una legge vuota, a forte rischio e impugnativa, che mira solo a prendere tempo nella speranza che dal Parlamento nazionale arrivi la ciambella di salvataggio con le mille proroghe, che comunque non risolve assolutamente il problema del precariato. Una legge sui precari licenziata dall'Aula, che viene spacciata come la panacea di tutti i mani, ma che in effetti è l'ennesima presa in giro per migliaia di precari lavoratori. È un testo, dicono i deputati 5 Stelle, che presenta innumerevoli profili di incostituzionalità, che assicura solo la continuità lavorativa, ma che non stabilizza assolutamente nessuno, come i partiti vogliono far credere per ovvie ragioni elettorali. Non abbiamo voluto votare contro, per rispetto di tanta gente che guardava a Sala d'Ercole con grandissime aspettative, ma non potevamo però avallare queste manovre da bassa e vecchia politica. Per questo ci siamo astenuti.